Valloria è una frazione del comune di Prelà, in provincia d'Imperia, nel cuore della Valprino immersa negli ulivi. Il toponimo Valloria deriverebbe dalla sua posizione geografica, posto presso un pendio del versante orografico della cosiddetta Vallis Aurea. Il borgo gode di uno splendido panorama che dalla valle del Prino arriva fino al mare. L'economia del paese è legata principalmente all'agricoltura, specialmente all'olivocoltura. Nella piazza centrale possiamo vedere la chiesa di San Gervasio e Protasio. Intorno agli anni 90, un'iniziativa di una locale associazione, Gli Amici di Valloria, con lo scopo di far rinascere il borgo storico, ha portato nel paese valenti artisti contemporanei, che con tema libero e legati all'ambiente, hanno realizzato l'iniziale decorazione pittorica di circa 70 porte delle case di Valloria. Attualmente, tra porte e portoni, sono circa 150 gli infissi decorati. Se il video ti è piaciuto, iscriviti a questo canale YouTube. Sei anche il benvenuto nel nostro gruppo Facebook Droni e Borghi Antichi. Grazie e arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.